Siamo con Vittorio Giannuzzo, al fiere del Celani Team di Roma, in sella alla sua GSXR1000, ci fa vivere un giro di pista sul circuito di Misano. Ciao Vittorio. Ciao a tutti, siamo sul rettilineo principale del circuito di Misano, prima, seconda, terza, poi qui si stacca abbastanza violentemente, io metto la seconda, a metà d'accordo lo apro il gas, mi lancio verso la Misano 2.